Buongiorno, Domenico Giordano da Giordano Brocage Est. Continuiamo con la nostra rassegna stampa russa in italiano e continuiamo a dare informazioni controcorrente. Cioè noi vediamo sulla stampa internazionale, sulla stampa italiana, come si parli di Russia come un mercato dal quale molti scappano, molti riducono i loro investimenti, vengono ridotte le rappresentanze e quant'altro. Ma possiamo dirvi con serenità, facendo riferimento a delle testate importanti, come invece molti stranieri stiano invece decidendo di andare controcorrente e di venire a investire in Russia. Iniziamo da una società italiana, la General Invest, il cui fondatore, ideatore e attuale presidente, il dottor Vincenzo Trani, che saluto. Il suo ultimo progetto in Russia è quello di aver portato una novità in questo mercato, l'utilizzo delle macchine a minuto, cioè dei taxi senza autista, che noi possiamo utilizzare avendo un'app sul nostro telefono. Quindi paghiamo i minuti di utilizzo. È un progetto che ha visto coinvolta questa società italiana, che ha investito un miliardo di rubli. Il progetto è partito con 100 autovetture, ha avuto subito il sostegno dell'amministrazione, dando dei forti sconti sui parcheggi. È un progetto che ha riscosso notevole successo e sicuramente sarà il pioniere di questo settore. Il progetto si chiama Daily Mobile, che in russo significa condividere l'auto, che è un po' il concetto base del car sharing. Non solo l'Italia, ma vediamo che anche l'America, nello specifico la società del 500 start-up, ha deciso di venire in Russia. Ha notato la tendenza di fuga di molte società, anche di investimento, e quindi ha capito che la cosa migliore è andare contro corrente. Hanno studiato il mercato russo, hanno visto che il potenziale è enorme e poi quando si va a conto corrente si possono cogliere quelle occasioni che altrimenti sfuggirebbero. Vediamo come il loro modus operandi è quello di entrare, come dico, una quota nella start-up con un presto che va dai 25.000 ai 250.000 dollari. Questa scelta è nata dopo aver studiato il mercato e aver visto che molti diplomati hanno creato delle start-up, delle novità che poi hanno avuto risonanza mondiale. E poi non dimentichiamoci che se prendiamo l'elenco dei residenti del Silicon Valley, i cognomi sono maggior parte russi o ex Unione Sovietica. Non solo, vediamo come anche la società tedesca, l'Euroshop, abbia deciso di venire in Russia e aprire i suoi propri negozi, caratterizzati dal prezzo fisso di 1 euro. Quindi un segmento veramente popolare, in questo momento che dobbiamo dire non è un momento semplice, sicuramente troverà terreno fertile. Programmi ambiziosi che partono da 15 aperture entro fine anno, ai 200 nei prossimi tre anni, fino al programma di lungo respiro di 2.000 aperture. Quindi grossi investimenti da parte anche dei tedeschi. E continuiamo, insieme alla sezione investimenti, vediamo che anche gli stessi russi, che sono, se vogliamo, un po' nazionalisti, hanno deciso di investire nel proprio territorio. Vediamo come l'ex governatore della regione di Primoria, quindi parliamo dell'estremo oriente russo e i confini con il Giappone, abbia deciso con la sua società aperta nel 2014 di dar vita a tre fondi di investimento, nello specifico da 100 milioni, 300 milioni e un miliardo di dollari. Ovviamente questi capitali saranno tutti investiti nella zona di riferimento, quindi nell'estremo oriente russo, che riguarderanno l'agricoltura, la pesca, le infrastrutture. Quindi c'è voglia, anche da parte dei miliardari russi, di sviluppare la propria regione. Sono notizie queste che possono lasciare un po' stupiti, però ci rendiamo conto di come questo progetto dell'estremo oriente abbia già suscitato l'interesse della Samsung e della provincia cinese, scusate l'espressione, della Henlwansian. Quindi i russi investono, gli stranieri investono, quindi la Russia è ancora un mercato, senza voler raccontare delle favole, un mercato in questo momento con delle difficoltà, ma proprio delle difficoltà si possono cogliere le occasioni migliori, come hanno fatto e stanno facendo gli italiani, gli americani e gli stessi russi. Noi vi salutiamo, se il video vi è piaciuto mettete il vostro like, commenti, critiche, suggerimenti, siamo qui a vostra disposizione perché vogliamo raccontarvi anche l'altro lato della medaglia. Vi salutiamo e a presto!